È la dodicesima iniziativa del collegamento provinciale del volontariato pantomano a favore della disabilità. Questa è la ricorrenza della giornata internazionale della disabilità e il collegamento da sempre fa il diverso sei tu, inteso il ragazzo disabile diverso da noi. Quest'anno il tema che abbiamo voluto affrontare è sullo sport, essendo anche l'anno dei campionati mondiali, lo sport è come sistema di integrazione. Partecipano a questa iniziativa una ventina di associazioni cooperative sociali del volontariato che seguono i giovani con la disabilità. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano, chiaramente il Comune di Mantua con il suo patrocinio, come pure i comuni di Curtatone e la provincia di Mantua. All'iniziativa hanno partecipato, e qui voglio ringraziare chiaramente Anselmo Sanguanini, per la sua capacità di tecnica, quella di poter costruire delle biciclette adatte per i disabili. Questa mattina ne abbiamo visto una più bella dell'altra, nel senso quella che pedalando si fa il caffè, l'altra che fa lo zucchero filato, l'altra che taglia il salame, eccetera. Tutte iniziative sue personali con il figlio che chiaramente, essendo disabile e amante della bicicletta, ha voluto costruire. La giornata come è venuta? La giornata è iniziata appunto con questo handbike, dopodiché è proseguita con la pallavolo, attualmente i ragazzi stanno svolgendo tennis e poi riprenderà ancora la pallacanestro per una delle attività o delle tante attività che i ragazzi fanno.